Buongiorno, sono Alessandro, chef e proprietario del ristorante La Bagna Marina. In questi 9 anni ho creato una linea di menù per consolidare il rapporto con il cliente. Il primo è un menù da 29 euro, completo dall'antipasto al dolce. Il secondo è un menù da 35 euro, che si usa principalmente per ogni tipo di panchettistica. Come si vince anche dal prezzo, la differenza è nella quantità delle portate. Nel momento in cui si diventa clienti, si ha diritto a ricevere un coupon promozionale a 45 euro la coppia, ovviamente a base di pesce. Il possessore del coupon è libero di portare con sé quanti più ospiti vuole, allo stesso prezzo. Un anno dopo l'apertura, sollecitato anche dalle richieste dei clienti, ho preso la decisione di far costruire un forno a legna di ultima generazione. C'è stata una forte risposta da parte del pubblico, anche grazie all'esperienza trentennale del nostro pizzaiolo. E una curata scelta dei prodotti, dal pomodoro alla mozzarella, che sono la base di una pizza di qualità. Anche qui proponiamo diverse offerte. Tutte le pizzerre a spot a 4 euro e due menù. Uno a 10 euro e un altro a 15 euro per la pizza non stop. Ovviamente tutti i nostri fritti sono rigorosamente fatti in casa. Per completare la mia idea impenditoriale, ho di recente trasformato una delle sale del ristorante in un lounge bar. Siamo aperti tutti i giorni dalle 11 alle 24, con servizio bar, gastronomia e piccola pasticceria direttamente dalla cucina. Per quanto riguarda l'aperitivo, oltre ai classici prodotti della casa, si può anche consumare un carice di bollicine, accompagnato da frittura espressa o un crudo preparato davanti a voi. Siamo aperti tutti i giorni.